un saluto a tutti ragazzi benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele oggi andremo a presentare la decima uscita della Citroen 2 cavalli Charleston la leggendaria francese edizione di Agostini scala 1 a 8 andiamo subito a vedere cosa è contenuto all'interno di questo fascicolo e abbiamo il rivestimento sedile anteriore sinistro tutto in tessuto allora ok ovviamente stavo leggendo per sintetizzare un po ci chiedono di prendere quello che abbiamo assemblato nella fase 5 ricordatevi vi avevo consigliato di lasciarlo all'interno del blister così se vi saltano gli elastici non perdete i gancetti ne avete solo due di ricambio e sarebbe un peccato perderli io ho sostituito i gommini come da video precedenti e le motivazioni ve le ho spiegate nei video allora andiamo subito ad aprire il sacchetto ecco qua lo analizzo un attimo allora abbiamo una gomma una gomma sottilissima tutta micro forata tipo una gomma piuma non so se riesco a farvi vedere è bello questo dettaglio poi abbiamo la similpelle qui questo è tutto tessuto vero andiamo a vedere anche tutta l'impuntura che hanno fatto è stata molto bene ecco adesso io metto un attimo in pausa ma semplicemente perché vado con l'ausilio di una forbicetta vado a tagliare questi vedete semplicemente questi ok così ecco e farò la stessa cosa dietro anche se non si vedono andrò a pulirla un po ci vediamo tra un po a breve eccoci qua comunque c'è stato veramente ma veramente poco da togliere molto onestamente veramente poco è fatto veramente bene allora giriamo la pagina e ci dicono che questo rivestimento è una replica fedele di quello della vera due cavalli charleston tutti i dettagli sono stati riprodotti con la massica con la massima cura dal disegno del tessuto all'imbottitura interna poi all'interno su due lati uno e due qui della seduta troviamo due chiusure con velcro che possono essere facilmente distese serviranno poi per fissare il rivestimento alla struttura del sedile ci dicono che per iniziare infila lo schienale del sedile anteriore sinistro all'interno del rivestimento quindi posizioniamo il sedile come ci dicono loro mettiamo il rivestimento in similpelle dietro fate solo attenzione a non battere contro la cucitura quindi passatela così tutto delicatamente senza alcuna fretta ok? ecco qui cercate anche di centrare la pelle chiamiamola così anche se è una similpelle il rivestimento dietro di pelle cercate di centrarlo bene così anche esteticamente è più bello più gradevole anche da vedere quindi distribuite bene lo spazio con tessuto di qua e di qua ok? che bello a questo punto distendi bene il rivestimento così da farlo aderire perfettamente alla struttura del sedile controlliamo solo qui se è arrivato in fondo ancora un po' si può tirare così poi distendi il rivestimento su entrambi i lati della seduta assicurandoti che la parte in similpelle sul retro dello schianale sia ben centrata che è quello che abbiamo detto prima tira leggermente il rivestimento verso un angolo della seduta quindi tireremo prima un lato e poi l'altro e rivoltelo sotto la parte anteriore della struttura allora così perfetto siamo a questo punto qua io ho fatto prima questo lato invece che l'altro ma poco cambia ripeti l'operazione precedente sull'altro angolo della seduta quindi controlla che il rivestimento avvolga completamente il sedile ok andiamo subito io lo separo già separo già il velcro ok uno e due guardate che meraviglia che meraviglia che bello allora a questo punto per completare l'applicazione del rivestimento apri il velcro all'interno di uno dei due bordi laterali una volta disteso il tessuto passalo attorno alla barra situata sotto la seduta questa è la barra situata sotto la seduta e fissalo nuovamente con il velcro allora facciamo semplicemente quello che ci dicono quindi passiamo guardate così vedete passo questo aspettate eccola qua questa barra di metallo stavo guardando se è giusto così sì perché mi diceva sotto la seduta sotto la seduta in realtà era questa ma qui non può essere assolutamente non vi potete sbagliare non potete metterla sul primo perché ci sono gli anelli quindi non può passare il velcro per forza è la seconda giusto per non farvi commettere errori anche se è spiegato molto bene ecco qua andiamo a fare questo lavoro qui perfetto vedete allora guardate ragazzi quello che vi consiglio ovviamente vedete che ha una forma il velcro non rettangolare ecco fatelo combaciare perfettamente il rettangolo sul rettangolo cioè nero con nero per capirci non così perché terrebbe anche vedete non va bene fatelo combaciare proprio bene come è quello cucito che attacca con quello che viene catturato ok ecco qua facciamo la stessa cosa con l'altro ecco qui c'è un po' di movimento nel telefonino ragazzi c'è c'è un po' da fare controlliamolo ecco questo mi piace questo non mi piace lo metto meglio questo invece mi è venuto bene non mi piace questo lo devo mettere meglio non ci sono problemi vedete che qui poi lo aggiustate voi bene importante che abbia la battuta questo attenzione vedete qua che gira al contrario lo fate entrare all'interno poi ragazzi io i video li faccio così ma poi ovviamente li aggiusto non voglio perdere troppo tempo perché non voglio annoiarvi a voi con i video troppo lunghi ok quindi ecco cerco di darvi anche se ripeto sono spiegate benissimo le istruzioni meno male però insomma io cerco di dirvi la mia qualora lo ritenessi utile ecco ok ragazzi grazie sempre di seguirmi ecco qua allora adesso andiamo a controllare tutto controlliamo qua dietro guardate vedete che ha la stessa distanza tra qua e qua e va bene andiamo a vedere questo lo tirate un po' giù così piuttosto lo correggete davanti deve essere fatto bene perché è troppo bello questo sedile ed è un peccato non montarlo bene anche se insomma non potete sbagliarvi poi vedete controllate qui questa linea dovrebbe arrivare a questa barra così che si copra e la stessa cosa farete poi da questa parte qui quindi lo tirate giù finché vedete che si copre non strappatelo insomma vedete se non si tira di più fermatevi lì perché va benissimo ecco vedete quando arrivate già così in linea con questo siete a posto questo come vi dicevo poi lo girate con calma questo vedete questo ecco ve lo girate poi con calma sotto che non si veda cioè che si veda solo se volete un attimo metto in pausa così vi faccio vedere non faccio il video lungo vi faccio vedere secondo me come deve rimanere poi alla fine ecco qui ragazzi vedete io mi sono aiutato aspettate che vi faccio vedere ecco qua mi sono aiutato con la punta di una fascetta di plastica sto andata in punta ovviamente come è da origine e ho spinto sotto il tessuto qua così non lo rovinate voi vedete qualsiasi cosa basta che non sia una punta in metallo perché ovviamente rischiereste di bucare il tessuto poi controllate anche dietro se vi si è spostata questa fascia bianca ok a me si era spostata un po' infatti l'ho adrizzata la mettete chiaramente nella metà giusta e basta una volta controllate che qua è tirato che qui è coperto vedete sui fianchi non importa se si vede un po' qua ragazzi la particolarità di questa macchina è proprio questa cioè questo è un tessuto non è impunturato in pelle è un tessuto cucito e rivestito è così che deve essere bellissima io la trovo un'opera d'arte veramente come modellino io sono veramente contento ecco a parte gli elastici come vi ho detto che saltano ho scritto la di Agostini o la lunga email speriamo che intervengano me lo auguro così hanno detto vedremo ragazzi mi sono dimenticato nell'unboxing di farvi notare ma lo avrete sicuramente notato che abbiamo iniziato a ricevere quattro uscite contro le due che ricevevamo prima come in ogni collezione sapete che si inizia con due uscite mensili e poi si continua con quattro va bene ragazzi questo video finisce qui ecco qua questa è la foto che vedete qui bellissimo vedete bellissimo mi raccomando l'unica cosa schiacciate bene il velcro accertatevi che sia ben attaccato su tutta la linea vi si stacca da qualche parte ma non vi preoccupate di quello non si staccherà poi del tutto l'importante è che lo centriate bene così siete sicuri di aver fatto un ottimo lavoro ecco qua adesso metto un attimo in pausa il video vi faccio vedere fin dove siamo arrivati fino adesso come piace a me perché ci tengo a fare vedere il punto in cui siamo arrivati e poi ragazzi se volete salutarmi lo potete fare perché farò vedere poi il contenuto del fascicolo per permettere a tutti coloro i quali non hanno fatto la collezione per una ragione o per l'altra di poter leggerne i contenuti che secondo me per chi ama questa macchina sono veramente belli interessanti e la storia di questa splendida per me insomma che non avrei scelto di fare la collezione che per me è una splendida macchina veramente bella va bene ragazzi a dopo eccoci qua ragazzi questo è dove siamo arrivati ad oggi fino all'uscita numero 10 guardate che meraviglia chiave del cruscotto per accendere poi le luci e in metallo l'interno in metallo per creare il contatto chiaramente fare la massa tra i due fili dove uno accenderà le luci e dall'altra parte girando la chiave nell'altro senso ci sarà il sonoro dell'accensione del motore questo è un pezzo della sospensione destro se non ricordo male il motore parte del motore la porta che abbiamo il finestrino basculante come quella vera tutta in metallo l'interno in plastica quello nero tutti in metallo abbiamo anche il cofano anteriore la ruota in metallo il paraurto in plastica questo è in plastica con le rettine tutte in metallo e questo l'abbiamo appena visto ok ragazzi va bene adesso faccio un po' di spazio e faccio leggere i contenuti a chi fosse interessato intanto a voi vi saluto se avete piacere iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video ciao ragazzi un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari adesso rimango con quei pochi che magari vorranno dare una lettura all'interno di questo fascicolo eccoci qua da adesso in avanti dedico questa parte di video a colori quali amano anche conoscerne la storia e non hanno la possibilità di poter leggere i fascicoli perché per una ragione o per l'altra come ho già detto prima non hanno fatto la collezione allora prima pagina dei servizi numeri utili di servizi qui è inutile che parlo perché è importante leggere che parlo perché è importante leggere eh non c'è una musichetta non c'è nulla non sono capace di farle queste cose come non sono capace di tagliare i video o di mettere le icone con iscrivetevi al canale lo dico a voce so che saranno pochi quelli interessati alla lettura del fascicolo ed è ovvio che chi non lo è lo spegne già prima però ci tengo lo stesso io a dare la possibilità fossero anche pochi o anche solo uno lavorare un po di più e consentire a quella persona quelle poche persone di poter anche leggere quella che è la storia di questa leggendaria utilitaria francese meravigliosa a mio parere per quello che rappresenta e rappresentato e rappresenterà ecco qui ragazzi Michele vi saluta vi da appuntamento al prossimo video il numero 11 e vi ringrazia del vostro tempo e se avete piacere ricordatevi di iscrivervi e di attivare la campanella è importante perché potrete vedere tutte le collezioni che faccio vi arriverà il messaggio e sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video che non appena possibile tradurrò in 26 lingue per consentire a tutti quelli che sono interessati di non soltanto guardare le figure come tante volte mi capita a me nei video stranieri però non ne capisco i contenuti quindi ecco nei limiti del possibile nell'insieme con la traduzione farvi anche comprendere quelli che sono i contenuti verbali grazie ragazzi un abbraccio a voi che siete rimasti anche fino alla fine e a tutti i vostri cari più cari al prossimo video ciao da Michele ciao